hola a tutti ragazzi il vostro luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video arrivati finalmente su un server faction come molti di voi mi hanno richiesto siamo su tarest un server faction molto conosciuto soprattutto in italia ovviamente perché appunto italiano e oggi ragazzi vi andrò a presentare la serie che ho intenzione di portare sul canale per aprire una parentesi iniziale volevo dirvi una cosa ragà non so come si sente l'audio purtroppo voi ben sapete che ho comprato questo microfono professionale e quindi ancora devo capire un po' come usarlo e di conseguenza non so come metterlo oggi ho provato a mettere in un'altra posizione e speriamo che vada bene comunque ragà prima di startare col video e dirvi tutto però no proviamo a far salutare youtube vediamo se ci cagano dubito fortemente ragà e nessuno ci cagherà e già lo so vabbè comunque ragà a parte gli scherzi ovviamente è difficile qualcuno mi caghi per diversi motivi uno non c'ho la targhetta youtuber cosa che mi farò mettere penso dopo questo video due non posso scrivere in colorato e tre stanno spammando come degli imbecilli raga comunque devo dirvi diverse cose prima di iniziare almeno io ti ho cagato grande ninja perché lui è raccomandato perché io l'ho detto io dopo ricordati però non ho detto a nessuno comunque ragazzi volevo dire delle premesse credo che questo server sia pieno ricco di bimbi minchia purtroppo oh maranami maranami ma ma perché mi fate questo oh ho buttato la spada buona comunque sto dicendo sono troppo pieni di bimbi minchia perché appunto ragà trovo gente che insulta gente che si mette a spammare è poco moderato come server almeno io credo però ragà sono entrato da poco non so nemmeno bene come sia organizzato o architettato il metodo di ranking diciamo però da come mi riconversione a livello di organizzazione è stupendo a livello di moderazione degli utenti è molto scarso perché anche io ragazzi a volte mi arrabbiavano vi faccio un esempio li mandavo a quel paese quando spammavano in chat e nessuno mi diceva nulla quindi ragà capite che è un po' strano poi non so se si nota no qui non si nota che spammano tipo ho cambiato nome la fazione per l'ho ricambiato e si vende tutta una chat strunz e per trovare questi qua che fanno queste calls ci mettono abbastanza tempo però tralasciando questo ragà come detto per cento volte il server è davvero organizzato bene molti diranno il look ma perché non l'hai fatto su The Legend? ragà io nulla da togliere a The Legend perché comunque la serie ho pilati i price fino a che la c'è della like andrà avanti però il fazione lo preferisco proprio qui in dando grazie ai seguiti la testa lo preferisco proprio qui perché è organizzato in un modo molto particolare anche il metodo di ranking eccetera che infatti devo studiare meglio per capirlo e inoltre ragà vi spiego un po' come si struttura noi facendo slash stats vediamo i punti exp che abbiamo e i punti elo i punti elo servono per rancare infatti se io scrivo in chat vedete il mio rank è frail prima ovviamente c'è scritto anche la mia fazione e i punti exp servono appunto magari per potenziare i mob spawner dai quali appunto uccidendo i ragni oppure qualsiasi mob vi droppa le proprie teste il quale vi faccio vedere a cosa che servono perché voi dirite il look ma che serve? e non lo su no scherzo ragà noi andiamo al warp rank in cui appunto ci sono tutte le info vi spiegano tutto come funziona come si deve fare per rancare a cosa servono le teste allora ragà ovviamente quando uccidi i player ti da molto più exp mentre quando uccidi i mob vi da ben 50 punti exp però è una cosa che voglio dire con voi in diretta ok ragà stavo valutando una cosa perché ancora vi ripeto devo studiarlo insieme a voi il metodo di ranking volevo dire se i punti elo erano fatti dalle teste dei player perché ragazzi io ho 990 punti player e scusatemi elo però non so bene come l'ho fatti però ragà credo che non sia una cosa importante quando arriverà il momento cercherò di capirlo perché qua ragazzi pensate io avevo detto oh che bello nel prossimo video già ranco molto perché avendo 3300 passa punti exp pensavo di poter rancare in realtà servono i punti elo infatti ragazzi qui nella zona warp rank andate nella zona kit info cliccate col destro sul cartello in modo che si può cliccare e vedete appunto il kit dei prossimi vi e no vi scusate dei rank poi ovviamente come tutti i server ci sono anche vi ragazzi qui è la mia fazione la base della anzi più che mia di tutti coloro che sono nel ts per ora poi ripeto cercherò di vedere come organizzare per invitare anche voi perché comunque devo studiarlo alla cosa se entra qualcuno di tares che vuole griffare è easy perché è ovvio che ci riesce a griffare però adesso vedremo come organizzarci comunque questa qui è la nostra fazione ovviamente non vi faccio vedere né cortilata né nulla vi dico che è molto lontano dello spawn e poi un'altra cosa è una cosa momentanea vedete che sono 4 cose messe in croce come ti suol dire è uno spawner di ragni giusto per farmare velocemente appunto teste per i punti exp poi il grande ice uno dei appunto partecipanti della fazione ha upgradeato il coso lo spawner quindi raga c'è molta collaborazione nella fazione e questo mi fa molto piacere spero che i nuovi che si aggregheranno appunto alla fazione collaborano molto sperando appunto di creare un gioco tranquillo comunque raga vi ripeto il server è organizzato davvero molto bene credo proprio che merita del fatto che ci porta una serie no perché io sono chissà chi nel senso perché raga a me non tanto mi gusta portare serie fazioni però quando trovo qualcosa di ben fatto ce la voglio portare quindi credo che meriti molto e di conseguenza porterò questa serie mi raccomando raga voglio dirvi saluta ice già l'ho salutato 20 volte ninja comunque voglio dare tanti like sotto a questo video voglio dare molto supporto da parte vostra perché io cerco di impegnarmi perché comunque riccare editare porta grande lavoro e mi aspetto un grande contributo da parte vostra comunque raga se volete la serie spolliciate commentate il video condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale ci becchiamo alla prossima magari cominceremo già a cercare fazioni a migliorare la nostra vedremo cosa fare e ciao a tutti ragazzi